Questo parere che permetterà al Comitato delle Regioni di assumere una prima posizione sul futuro e sulle prospettive del Fondo Sociale Europeo è molto importante perché si inserisce anche nella fase attuale di proposta per il nuovo quadro finanziario pluriennale che ovviamente non riguarda soltanto il tema della riduzione delle risorse disponibili in seguito all'uscita della Gran Bretagna, secondo contributore netto dell'Unione, ma anche alla necessità di affrontare politicamente nuovi bisogni e priorità che non hanno trovato fin qui adeguati finanziamenti nell'ambito della sicurezza interna ed esterna dell'Unione, delle migrazioni, delle sfide tecnologiche. Ma soprattutto ci troviamo di fronte anche ad un'Europa che ha sempre più bisogno di affrontare all'interno dei Paesi il fenomeno della crescente disuguaglianza, dei redditi, il rischio di compromettere la coesione sociale. Motivo per il quale per le regioni e per le città d'Europa l'operatività della politica di coesione e dentro a questa anche le prospettive del Fondo Sociale Europeo rappresentano un obiettivo da tenere in campo non solo per assicurare la convergenza dei territori più sfavoriti, ma anche per consentire a tutte le regioni europee di fronteggiare l'innovazione e la competitività territoriale e la propria coesione sociale. Sicuramente nel dibattito dei prossimi mesi l'accentuazione della dimensione sociale nelle politiche dell'Unione è una priorità necessaria. Non a caso discutiamo anche di un pilastro europeo dei diritti sociali come necessità anche per riconnettere i cittadini, le istituzioni europee e queste ai bisogni delle comunità locali e territoriali. Nel mio parere metto l'accento sulla necessità che il Fondo Sociale Europeo rimanga parte integrante e irrinunciabile della politica di coesione e che questo possa rappresentare uno degli strumenti adeguati anche integrati con altri programmi per affrontare le sfide che abbiamo di fronte. Va respinto ogni tentativo di introdurre l'obbligo di programmi in monofondo nell'ambito della politica di coesione. Il Fondo Sociale Europeo, nella proposta di parere, deve restare un fondo a gestione condivisa nella quale il ruolo anche delle regioni e delle autorità locali nell'attuazione degli obiettivi deve rimanere centrale. Voglio anche mettere in evidenza, come faccio nel parere, che anche le ipotesi che sono state prospettate dalla DG Employee di accorpare vari fondi che intervengono in campo sociale, quindi i cosiddetti fondi ombrello, possa essere condivisa a condizione che questo servia ad aumentare e a favorire le sinergie e favorisca anche una gestione condivisa. Voglio fare un'ultima considerazione politica prima di passare all'esame del parere e alla votazione degli emendamenti per l'importanza che il Fondo Sociale Europeo, io ritengo, abbia per l'Europa, ma anche per quanto ci riguarda consideriamo importante per la nostra famiglia politica che l'Europa sociale debba essere una priorità dell'agenda europea dei prossimi anni. E il Fondo è anche uno strumento attraverso il quale possiamo lavorare insieme le regioni e le autorità locali sulle questioni sociali e soprattutto è attraverso anche queste politiche e questi programmi che noi possiamo fronteggiare molte delle frustrazioni, delle preoccupazioni e del malcontento crescente in Europa come più volte le elezioni anche all'interno dei paesi europei hanno mostrato. Ringrazio tutti coloro che già in Commissione Coterra hanno permesso di lavorare su questo parere che abbiamo integrato oggi nella proposta finale che viene in plenaria. Ci sono ancora 31 emendamenti presentati da voi colleghi che ringrazio e che in gran parte, nella quasi totalità, vengono raccolti al fine di rafforzare la qualità e anche i contenuti del parere. Ne ho accettati la maggior parte, ho redatto alcuni pareri del relatore essenzialmente per dare una coerenza al testo. Due emendamenti e su questi non interverrò più del relatore. Il 21 e il 26 cercano di chiarire la complementarietrata del Fondo Sociale Europeo e il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione e soprattutto nel 26 cerco di mettere in evidenza quanto sia importante che il Fondo Sociale Europeo rimanga parte integrante dei fondi strutturali. Ringrazio per la collaborazione al parere l'esperto, il supporto dei tecnici e anche della segreteria del gruppo PES e la mia assistente. Grazie. 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 Grazie a tutti.